Comincia stasera Piano City la rassegna di concerti gratuiti di musica classica e jazz che raggiunge tutti i quartieri della città e anche gli spazi teatrali. Al Teatro dei Mendicanti di San Giovanni a Teduccio sabato 24 il concerto jazz del pianista Marco Di Gennaro, domenica 25 musica classica con Valentina Ambrosanio. Ancora sabato 24 al Teatro Area Nord di Piscinola il concerto La Spontaneità di Andrea Scherna, ideatore del festival. La tecnologia ci spinge all'isolamento, l'abuso di relazioni virtuali uccide la possibilità di essere felici. Due domande che serpeggiano nello spettacolo Ora di Pranzo, feroce testo di Giulia Lombezzi a Sala Icos con la regia di Pietro Iuliano da venerdì 23 a domenica 25. Due amici, uno ebreo, uno tedesco, negli anni della persecuzione nazifascista sono a confronto in Destinatario Sconosciuto, in scena sabato 24 e domenica 25, al nuovo Teatro Sanità al prezzo speciale di 5 euro. Al Teatro Nest, soltanto venerdì 23, approda all'udinte atret di Eugenio Barba, maestro internazionale del teatro contemporaneo, con Ave Maria, la rappresentazione di un rituale sacro che evoca la memoria di un'amica scomparsa. Il Teatro dei Mendicanti, Sala Icos, Il Nest, il Teatro Area Nord ed il nuovo Teatro Sanità possono essere raggiunti col Polibus, la navetta gratuita del comune di Napoli disponibile su prenotazione.